La serie tv Il nome della rosa ha riproposto i soliti errori sul medioevo e la chiesa di Rino Camilleri. Quando ho visto la prima puntata di Il nome della rosa televisivo nel marzo scorso ho realizzato che la nuova versione Colossal, tra l'altro finanziata da Rai Cinema, cioè dai contribuenti tra cui io, era se possibile anche peggiore della precedente. Il film di Jean-Jacques Canot, uscito nel 1986, è tratto dal palinsesto di Umberto Eco, il quale aveva preteso questa aggiunta nei titoli per chiarire che il film non poteva rappresentare tutta la complessità del romanzo bestseller omonimo. Ma torniamo alla miniserie. La primissima scena, di cui dicevamo, è scritta in campo nero, con la quale si avverte allo spettatore che nel 1327, anno in cui si svolge la vicenda, l'imperatore Ludovico stava cercando di separare la politica dalla religione. Di fronte a un'affermazione del genere è previsto che le simpatie dello spettatore si orientino verso l'imperatore, rodevolmente impegnato a liberarsi da una chiesa che vorrebbe imporre a lui e ai posteri uno stato teocratico di tipo, per intendersi, jihadista. La storia vera dice però il contrario. Tutta la lunga lotta per le investiture dal secolo undicesimo al concordato di Worms del 1122 fu combattuta perché era semmai l'imperatore a voler sottomettere la chiesa, decidendo lui la nomina dei vescovi. L'imperatore che regnava nel 1327, Ludovico IV il Bavaro, aveva deciso allora di tagliare del tutto il cordone umbilicale con la madre chiesa. Infatti volle farsi incoronare non dal pontefice ma da laico, quello sciarra colonna, che aveva preso a schiaffi il Papa Bonifacio VIII da Nanni. Con quel gesto simbolicamente si chiuse il Medioevo, cristianissimo. Bonifacio VIII lo comprese benissimo, tant'è che ne morì di crepa a cuore subito dopo. E la chiesa, come previsto, finì alla mercè del potere politico. Nel 1327 il pontificato infatti non stava più a Roma, bensì ad Avignone. Sequestrato e deportato in Francia dal re Filippo il Bello, il distruttore dei Templari. E furono settant'anni di papi e cardinali, guarda caso francesi, cui seguì il disastro del grande scisma. Tre papi, ognuno pretendente sì legittimo. Il potere politico, privo della guida e del freno di un'autorità morale, divenne sempre più assoluto, ab solutus, cioè svincolato da ogni limite, culminando infine nei totalitarismi del secolo XX. La fiction in tv ci presenta un inquisitore veramente esistito, Bernardo Gui, come la quintessenza del fanatismo più ottuso e ideologico, quasi antesignano delle SS o del KGB. Ora, poiché nessuno storico si sente più di sostenere una fesseria del genere, ecco che una fiction ricavata da un romanzo ripropone la leggenda nera sull'inquisizione e i secoli bui. Al tempo dell'uscita del romanzo, medievisti come Franco Cardini e Marco Tangheroni, si spesero per ricordare che i monasteri medievali erano affari di cultura e non di ignoranza, e sfamavano i dintorni. È rimasto il detto, cosa passa il convento oggi? Le biblioteche monastiche non avevano affatto passaggi segreti o libri inaccessibili. Al contrario, il diveto di ridere lo ha messo in scena, ecco. I monaci veri salvarono e copiarono e tramandarono anche opere pagane licenziose, come quelle di Ovidio. Bernardo Gui, vero, fu mito inquisitore e finito intellettuale, stimato come il maggior storico del suo tempo. Non si potevano accendere i roghi su due piedi. La procedura inquisitoria era lunga, complessa, garantista. Gli eretici dolciniani non erano affatto dei robi nude, ma per il loro comunismo utopico saccheggiavano e uccidevano. Ancora, il papa Giovanni XXII mai si sognò di abolire i francescani. Solo disputava con gli eretici, fradicelli francescani di Frangia, che intendevano instaurare la povertà assoluta e i termini della questione sfociavano nell'eresia dell'abolizione, di principio, della proprietà privata, eccetera. Ma al di là delle esigenze televisive, per esempio la figlia vendicativa di Dolcino non è mai esistita, il problema sta a monte, cioè nel romanzo di Eco che la fiction tv ha risospinto in classifica. L'autore conosce bene la storia di quel periodo e anche il dibattito ecclesiale che lo contraddistinse, ma scelse appositamente di fare un romanzo gotico, una specie di Il pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe, farcendolo dei più grezzi luoghi comuni, laicisti, dei secoli bui. La famosa chiesa povera reclamata dai fraticelli, dai teologi, al soldo dell'imperatore, era di fatto una chiesa ricacciata in sacristia, una chiesa che non aveva il diritto di giudicare il potere e le leggi che esso emanava. Il papa Giovanni XXII, ripetiamo, non cercò mai di abolire l'ordine francescano, ma solo di impedire che la disputa sulla povertà finisse in questo modo, cosa che poi avvenne con Lutero prima e Robespierre poi. Insomma, è in quell'antico braccio di ferro la radice del mondo moderno. Non a caso Eco scelse di ambientarvi la sua opera. E la rosa? Stat rosa pristina nomine, diceva un altro guglielmo francescano, Ockham, ammirato dal protagonista del romanzo. Nomina nuda tenemus, non abbiamo che nomi nudi, l'essenza della rosa è solo un nome. Ultimamente la verità non esiste, ed ecco fondato l'odierno relativismo. L'unica verità è imparare a liberarci dalla passione insana per la verità, fa dire l'autore a suo protagonista. Non esiste neanche Dio. Perciò Gott ist ein lautes nichts. Dio è un rumoroso nulla, un grande nulla. Così conclude il romanzo in narrante Azzo da Melk tedesco. Dal relativismo scettico di Ockham discende pure il positivismo giuridico, perché se non esiste la verità non esiste neanche un diritto naturale. Cioè io non ho diritti per natura, perché esisto e sono persona, ma ho solo quei diritti per l'ordinamento giuridico, che l'ordinamento giuridico mi dà. E come li dà, così può toglierli. La chiesa povera, insomma, quella reclamata dai fraticelli, non è una chiesa che rinuncia ai suoi beni per darle ai poveri, ma una chiesa che di fronte ai poteri mondani fa una, per così dire, scelta religiosa. Si ritira nel chiuso delle cappelle di centuari e lascia allo stato completa mano libera? Intanto però il film tv è stato venduto in 130 paesi, così la leggenda nera viene rispalmata su nuove generazioni. Un medioevo tutto streghe, roghi, passaggi segreti, libri proibiti, frati fanatici e torture efferate. Tanto per ribadire che la realtà attuale è il migliore dei mondi possibili.